Luca Monteforte, una sconfitta in casa contro il tuo Savona, sei un ex, sei di Savona e comunque brucia per come è maturata, c'è poco da dire Sì, ha fatto un primo tempo veramente ottimo Savona, noi non ci siamo contraposti come volevamo sapevamo che non è una squadra in grande condizione, ha fatto vedere di esserlo grande individualità, grande intensità, noi non siamo riusciti a essere di quel livello lì purtroppo la realtà è quella, c'è stato quel momento che potevamo riaprire la partita con il 2-2 di Gulli ma poi hanno fatto il 3-1 e la partita è finita ma non c'è veramente neanche da fare una parola sul merito della vittoria del Savona C'è da lavorare pensando al futuro adesso? Sì, noi siamo convinti che non siamo quelli di oggi perché con il Casale l'abbiamo fatto vedere, il Casale è di un livello importante, l'abbiamo giocato domenica scorsa, siamo stati dentro la partita, abbiamo fatto molto bene, oggi non ci siamo riusciti ma non crediamo di non poter essere all'altezza della categoria, sappiamo che quest'anno il nostro campionato sarà una salvezza, sofferta fino alla fine però dobbiamo reagire subito Una parola ancora sugli avversari, stanno facendo molto anche visto il contesto nel quale lavorano Ma io gli ho detto prima della partita al mister, stanno facendo qualcosa di veramente importante questi ragazzi sembrano che siano tutte le componenti giuste, invece stanno attraversando in un momento di difficoltà può darsi che si siano veramente uniti in questa difficoltà e si vede sul campo perché il Savona era tempo che insomma non li vedevo così con questa compattezza, questa volontà, questo entusiasmo